La porta è aperta, entriamo! Mamma! Mamma, 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 mamma! Mamma! Crystal ha ceduto ed è scappata in Tibet. Che cosa? Sì, lo sappiamo, sembra assurdo, ma abbiamo controllato ed è un posto vero. Già. Ok, ragazzi, sentite, siete i padri. E' affar vostro. Hanno bisogno di me. Mal. No. Non abbiamo dormito. Già. Jackie non vuole i biberoni, abbiamo provato ogni tipo di latte. Ogni tipo di latte. Sì. Di mandorla, d'avena, parzialmente scremato, anche la panna. Anche il latte e il cioccolato. Già. Non ha voluto berlo. Anzi, alcuni ci mettono settimane a far passare il figlio al biberon, ma non io. Sono colei che sussurra ai bambini. Walsalinski può far passare qualsiasi bambino dalla tetta al biberon in un attimo. Non è vero, Mel? Ah, io penso che sia vero. Vieni qui, tesorino mio. Ciao, nocciolina. Ora osservate il maestro. Biberon. Biberon. Ecco qua. Perché non beve secondo te? Fatevi un giro. Il maestro è al lavoro. Ok, grazie. Grazie. Posso fare qualcosa? Anche tu, Mel. Non prenderla male. Sai che ti amo, ma vai a farti un giro. Sì. Sì. Sì.